Buongiorno a tutti, giornata quanto mai importante, alzi la mano chi pensava che si sarebbe arrivati a Torino con un vantaggio del genere a dover invece decidere del futuro della Juventus a provare, a fare un bello scherzo per farli rimanere fuori dalla Champions League con lo scudetto già cucito e a discutere se ci sarà o meno la passerella d'onore oppure no, ancora più complimenti a Conte alla squadra per quello che sono riusciti a fare per questa straordinaria stagione che però si può ancora migliorare, si può arrivare a quei 94 punti, sfondare il muro dei 90 a fare ancora meglio, cercare di vincere a Torino dove manca una vittoria addirittura dal 2012, dai tempi di stramaccioni che sembrano veramente la preistoria, quindi torniamo alle vecchie abitudini, figurina del nipotino di quel signore lì tra l'altro è comparso anche un Iron Man insieme alla maglia numero 9, servono dei supereroi titolarissimi in campo super Samir e lo scudetto ormai andato in pensione con, attenzione attenzione, occhiale scaramantico pronto per la sfida di quest'oggi per cercare di togliersi lo sfizio, una grande soddisfazione come ha detto gonfiando il petto e abbastanza provocatoriamente Conte che continua a parlare solo a InterTV finché non chiarirà con Steven Zhang, finché Steven Zhang non chiarirà il futuro dell'Inter questo finanziamento che si definirà settimana prossima, che è andato per le lunghe perché si cerca anche almeno il fondo OCTRI vuole una quota di minoranza e un progetto per entrare sempre di più dentro l'Inter solo a fine stagione, quando tutto sarà chiarito da parte della proprietà, tornerà a parlare Conte non vuole essere lui il parafulmine dei problemi societari, parlare di stipendi e quant'altro ma come vedete non è un problema solo di casa Inter, anzi la Juve ha chiesto quattro mensilità da rinviare ai giocatori, tutta la Lega di Serie A compatta ha chiesto la stessa cosa di differire addirittura le mensilità di aprile e maggio all'anno prossimo e all'asso calciatori di tagliare due mensilità, le stesse richieste che erano state fatte da Steven Zhang ai giocatori ma pensiamo che l'associazione, il sindacato dei calciatori registri e faccia spallucce non accetterà mai una proposta del genere nonostante pandemia, crisi e quant'altro però vi dimostra insomma come i problemi, l'abbiamo sempre detto, non sono solo di casa Inter ma di tutti, anche non solo relativamente al calcio, di tutte le aziende, ditemi chi non ha risentito di questa crisi se non Amazon che ha viaggiato sempre più spedita ma direi che qualsiasi altro tipo di azienda alla fine sta pagando ancora gli effetti della crisi sulla propria pelle sperando di tornare piano piano alla normalità, si dice che ad agosto, e vi non credo che invece si faccia qualcosa per settimana prossima come vi chiedete in tanti per l'ultima di campionato ma solo per la finale di Coppa Italia ci sarà un minimo di riapertura nonostante anche qui non si capisca come agli internazionali d'Italia, sì il pubblico a San Siro per la festa Scudetto tutto chiuso con la curva che però sta organizzando un grande ritrovo prima e dopo la partita con l'Udinese a cui dovrebbe partecipare anche Conte con la squadra con la Coppa dello Scudetto da festeggiare sempre in massima attenzione con tutte le precauzioni, distanze e quant'altro mi raccomando adesso però testa alla gara di Torino abbiamo detto una partita che vale per il prestigio per la classifica per cercare di finire con solo quelle due sconfitte con Milan e Sampdoria non dare una soddisfazione andare a prendersi le soddisfazioni invece che ci si meritano in quel di Torino in campo quindi tutti i titolaristi con Andanovic che torna in porta per raggiungere Walter Zenga il suo record con 328 presenze in Serie A poi difesa tipo bastoni De Vrij Skriniar a destra Kimi l'unico ballottaggio a sinistra dove dovrebbe giocare Darmian e non Perisic Barella Brozovic il ritorno di Giovannino Eriksen in mezzo a campo Lukaku e Lautaro dopo le scintille si riforma la Lula dopo la multa post partita per violazione coprifuoco di Lukaku e dopo le scintille il ring di Appiano Lautaro ha una grande possibilità intanto ha parlato a Sky ancora non continua a ribadire che resterà in nero azzurro però bisogna sempre monitorare la situazione Real Madrid e i continui contatti che il suo nuovo procuratore Camagno ha con le merengues da stare tutti molto attenti come vedete sempre versione classica a grande richiesta siete tutti dei conservatori quindi pazienza che non si vedano le prime pagine dei giornali ma vediamo quello che chiedete versione classica e anche per me meglio perché era un lavoro in più andare a prendersi tutte le prime pagine giornali salvarle metterle in pagina e poi farvele vedere va bene ve le racconto io senza problemi adesso andiamo spediti perché giorno di partita appuntamento in live per viverla insieme mi raccomando poi le ultime 13 e 15 su Italia 1 Sport Mediaset il nostro gruppo naturalmente su Telegram e le ultime notizie su Sport Mediaset i i vostri messaggi come sempre come tutte le mattine Sport Mediaset che apre tutte le copertine sono dedicate alla grande sfida di Torino Lautaro le sue parole sono stato vicino al Barca ho scelto di rimanere e non ho sbagliato questo con i club che chiedono l'esitamento delle scadenze il taglio di due mensilità Inter torna alla Lula le parole di Pirlo lo scudetto dell'Inter ci dà una motivazione in più questo quando con Conte che punge la Juve campionato equilibrato Inter a parte tra le sue parole di ieri con Calvarese che dirigerà la partita i vostri messaggi prima di passare ai giornali abbiamo fatto un attimo un excurso sulla app di Sport Mediaset messaggi più popolari e quindi andiamo a leggere i vostri commenti eccoli qui buongiorno Marco a Torino per vincere e mandare la Juve in Europa League Massimo Duchi Vincenzo Prinzi Valli io capisco perfettamente tutti quelli che non tifano l'Inter l'unica speranza che hanno per vincere il prossimo campionato è che il progetto salti in aria cosa è successo qua è un leone della tastiera ai 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 gli dia una bella multina 8 file fa un po' di scherza i giornalai Gianluigi non mi voglio più ripetere la prossima ti blocco non voglio più sentirlo l'utilizzo di questa parola in senso spregiativo offensivo Alessandro Negri vai giù pesante qua da noi mi permetto di dire noi perché mi sente una grande famiglia su questo canale si pratica la leggerezza e soprattutto la verità grande Alessandro Fabio Tronati non capisco proprio che fai di male per tirar fuori tutta questa rabbia questi personaggi che hanno bisogno di fare questo per vivere sei un gran lavoratore meriti più rispetto uno mi ha scritto mi sembra franco perché non ho fatto lo stesso sondaggio con Cristiano Ronaldo perché qui parliamo di Inter ci confrontiamo sull'Inter e penso che chiedere un parere vostro dopo quello che è successo sul campo ci stava perché è di quello che parliamo tanti erano dalla parte di Conte io stesso qualcuno invece ha difeso Lautaro perché spesso sostituito perché era già subentrato ed è stato in campo solo 40 minuti e dunque ci si confronta ma non penso che sia un confronto che possa creare chissà quali problemi è una quello che è successo sul campo ne sono stati i protagonisti Conte Lautaro avrebbero dovuto come abbiamo anche detto evitare di queste scintille per fortuna non hanno avuto nessuna ripercussione poi è stato tutto risolto alla grande la vita è troppo breve il tempo è troppo prezioso per sprecarlo con persone stupide leonello roselli hai troppo ragione viaggio tondo hai la nostra stima e il nostro sostegno per il lavoro che fai grazie veramente di cuore a tutti Mogrin quello che è successo con Lautaro chiaramente un fatto super positivo sempre sul pezzo specialmente oggi alle 18 Marco sei un mito a Torino bisogna vincere per provare a non mandarlo in coppa bravo Marco difendiamo il canale Marco Cazzaniga Lector un consiglio non rispondere ai tuoi video a chi ti offende così gli dai troppa importanza bloccali e basta io preferisco i video con la nuova grafica qualcuno li preferisce il canale deve evolversi anche graficamente secondo me però tutti gli altri mi hanno detto grazie Marco Marco Zorro per il consueto servizio di informazione che ci dai la possibilità di tranne spunti e commenti se hai poco tempo per montare i video però quando vedo che dici che ti arrivano i messaggi chiamati è un peccato non poter intrompere il video per poi riprendere so benissimo lo utilizzo già OBS studio però cerchiamo di essere online il prima possibile non abbiamo sicuramente il tempo di andare a editare i video tutte le mattine anche perché facciamo un altro un altro lavoro e quello dobbiamo prepararvi poi il servizio dell'una buongiorno Marco il salvataggio in tuffo di testa di Ranocchia è stato fantastico Fabio Tronati Giovanni Spano buongiorno Marco d'accordo con te riguarda gli haters like a prescindere forza inter Nele domani è il mio compleanno auguri bravo Marco tutti davanti al giudice grande Marco Marcello passa Torino molto meglio così Marco molta più qualità con questa inquadratura fidati Franco Saggiore un piacere rivederti a tutto schermo anche se non mi dispiaceva quello nuovo lascia perdere quelli che ti criticano grazie Franco Sassà De Baron per farti capire quanto sento la partita ti scrivo questa metafora religiosa quelli lì ormai stanno in una barra zincata e chiusa vabbè non esageriamo Sassà buongiorno Marco lasciamoli fuori dall'Europa sarebbe una goduria nera azzurra buongiorno che bello risentire il campanello del te caldo me lo sono dimenticato stamattina attenzione grande Marco Pasquale Scarpitta sei un professionista top noi veri interessi ti stimiamo e rispettiamo siamo tutti con te e il tuo canale la mia solidarietà Mario Manzini grazie e poi forza barza da Matteo Novellese saluto tutti gli altri Antonio 86 dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta mettendo K.O. la Juve per la Champions vogliamo l'occhiale scaramantico Salvatore ti ho già alla fine dato la tua soddisfazione Sarino mi fa piacere che continui con la vecchia scenografia direi questi i messaggi velocemente andiamo a dare una lettura veloce ai giornali visto che oggi è giorno di partita se riusciamo se la app ci aiuta eccoci qui copertine degli sportivi dedicate allo scontro di oggi con tutto il futuro della Juve nelle mani di Antonio Conte Conte prima pagina della gazzetta dello sport la apriamo Juve nelle mani di Conte è un bel Conte che esulta sta a dimore 18 intercampione d'Italia il tecnico tricolore può decidere la qualificazione Champions della ex squadra Pirlo fa terrori brucia a vederli con lo scudetto andiamo all'interno Juve rischi la batosta se perdi la Champions Inter quanto mi piaci sei cattiva eppure bella prime due pagine un'intervista a Bobbo Vieri che mi sembra abbastanza inflazionato anche no come scelta editoriale Juve Inter ultimo atto vale tanto Champions futuro Conte decide destino di Pirlo Antonio se la gioca da nuovo re dentro i titolari per un altro sfizio il vertice con Zhang possibile già prima dell'Udinese dopo l'ok al finanziamento settimana prossima leggiamo la gazzetta sul futuro la formazione è la stessa che vi ho dato io con una foto social che fa vedere Maicon e Giulio Cesar ieri passati in sede tutti gli avversari e tutte le partite alla stessa maniera questa sfida non potrà mai essere uguale alle altre per l'allenatore non bastasse il suo passato alla semifinale di Coppa Italia tra Dito Medio e Insulti ha segnato un altro confine Conte vuole prendersi un vantaggio vuole complicare i piani altrui vuole fare 94-94 punti sul futuro il dubbio lo può sciogliere solo Steven Zhang che in settimana chiuderà l'operazione finanziamento e solo dopo si metterà a tavolino con l'allenatore per stabilire il futuro Conte ha bisogno di garanzie tecniche smontare il giocattolo andando oltre la sostituzione di un pezzo sarebbe deleterio ma le garanzie devono essere complessive a 360 gradi Conte non la voglia di partire la prossima stagione con l'handicap di problemi extracampo da gestire gli basta far l'allenatore con il presidente possibile l'incontro anche prima della partita con l'Udinese quindi settimana prossima stiamo sintonizzati con l'allenatore che non parlerà neanche stasera e poi la formazione Ronaldo Lukaku quella coppia mancata pensate se Lukaku fosse andato alla Juve come sarebbe cambiato il futuro quindi complimenti ancora a Marotta a Ausilio allo stesso Conte per essere riusciti a portarlo a Milano Litigi Gestacci Insulti Juve Inter al veleno Agnelli Conte in Coppa Paratici Marotta la Super Lega ma tra presidenti il rapporto ok ancora Andanovic prende Zeng l'Inter lo vede alla Buffon Samiri il portiere con più gare in nero azzurro il club vuole affiancargli un titolare in pole position Musso io vi dico sempre attenzione anche a Silvestri vedremo cosa accadrà intanto aspettare questo incontro ai programmi societari e quant'altro ci trasferiamo al Corriere della Sera vediamo come tratta questa super sfida di campionato il quotidiano politico di Via Solferino in Milano vediamo se becchiamo eccola qui la pagina rivincita Conte l'ultimo colpo per affondare il regno Nato grazie a lui Brucia vederli campioni Pirlo e la Juve una speranza oltre i rimpianti CR7 e Lukaku i pesi massimi lui l'ha creata lui la può distruggere adesino della Juve nelle mani di Conte dieci anni fa iniziava il suo triennio bianco-nero tutta la storia e poi vediamo quando parla di futuro l'allenatore aspetta come calciatori le mosse del presidente Zanga le linee guida però sono delineate autofinanziamento cessioni eccellenti una se non due mercato da chiudere in attivo la prossima sarà un'altra stagione difficile sotto il profilo finanziario su Link deve decidere se andare avanti da sola trovare un socio cedere il club se ne discuterà fine campionato dopo il match con l'Udinese nel mentre le tensioni restano lo scudetto le ha congelate non allentate il match ha un passato pesante il futuro è un rebus per entrambe il presente dell'Inter invece libero da assili di classifica vivere una notte da re in casa del vecchio tiranno è l'obiettivo Conte poi deciderà come muoversi non vuole mollare il gruppo Conte l'ambiente di lavoro è speciale i giocatori sono un solo corpo con lui la riflessione sull'affidabilità dei progetti societari la vittoria si costruisce sulla fiducia l'Inter almeno in campo ne ha da vendere questo sul Corriere della Sera intanto fatemi mandare un messaggio al nostro al nostro Fabio il nostro super grafico come ogni giorno in copertina chiudiamo velocemente con Core Sport e Tutto Sport si parla naturalmente della situazione l'app è la solita che fa i capricci vediamo se apre con in prima pagina Antonio Conte a decidere del destino della Juve decide Conte la stoccata di Antonio campionato equilibrato non per l'Inter nelle sue parole a Inter TV di ieri e perché mi viene sempre a pensare non fare una conferenza tradizionale mettendo appunto le premesse non parlare di futuro non lo capisco formazione la stessa che vi abbiamo dato 4-4-2 per la Juventus con Ronaldo e Di Bala in attacco Pirlo e Conte oltre lo show nella primavera un anno fa valeva lo scudetto oggi a Torino Juventus non è solo un passaggio di consegna ma molto alto due allenatori che potrebbero anche non rimanere due società rivali ma delle visioni convergenti adesso mettere sullo stesso piano Conte e Pirlo e la possibilità che se ne vadano anche no le parole di Conte vincere all'andata ci ha dato il vero slancio ci brucerà vederli qui entrare da campioni Conte che vuole spingere la rivale in Europa League ma pretende garanzie da Zang dopo aver fatto da garante con i giocatori gioia da Champions prima dell'addio Lautaro futuro mi godo lo scudetto in reale è impressing l'Inter deve fare cassa ma il Toro non ha fretta Milano sto bene le sue parole chiudiamo con la prima pagina di Tutto Sport vediamo anche questa se si apre in modo rapido ricordiamo appuntamento in live ore 18 appuntamento Italia 1 ore 13 e 15 per tutte le ultime notizie la Juve nelle mani di Conte la copertina di Studio Sport si di Studio Sport di Tutto Sport con la possibilità appunto di un grande colpo gobbo come abbiamo titolato in copertina tutti sintonizzati mi raccomando buona giornata e mi raccomando fate andare like e condivisioni per aiutare un po' il canale ci vediamo questa sera per le pagelle